e dunque il personaggio che io interpreto in questa fiction è un fabbro che si chiama marcelli e questi sono i trucchi del mestiere che è il dirempettaio vicino di casa ma anche di cuore di vanni il falegname che è protagonista di questa fiction uno è un po più burbero l'altro è un po più dolce o vanni questi ragazzi che capitano a bottega ha detto 5 i 5 sono creano fra il padre mi fa marcello e mia figlia beatrice un po di contrasto certo punto di essere che la figlia invece si vorrebbe lasciare andare all'amore mentre marcello sa perfettamente che la figlia ha un carattere fragile non è il pubblico lo share gli ascolti i milioni che fanno la qualità e quella tutta quantità la qualità la fate voi voi dovete essere i nostri pezzi unici